Questa macchina è un mostro, paragonata al Dan Beetle. Forse dovremmo tornarcene a casa. No! È uno che va in giro a comprare macchine da corsa. Non so se ha fatto delle modifiche alla macchina, ma anche se fosse appena uscita dalla fabbrica, sarebbe comunque una dura avversaria. C'è, vai! Dobbiamo riscuotere. Ho dato il via.